Gli uffici del giudice di pace dal prossimo mercoledì saranno pienamente operativi nell'edificio dell'ex tribunale di Corsa Europa e quanto stabilito questa mattina al termine del superluogo operativo cui hanno preso parte il sindaco Angelo Danna, l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Durso, funzionari dell'ufficio del giudice di pace, il presidente della locale associazione avvocati Giuseppe Fiumanò e i due giudici di pace. Le operazioni di trasloco prenderanno il via già a partire dal lunedì e si concluderanno nel giro di 48 ore. Intanto già da questa mattina un'impresa esterna di pulizia è stata incaricata dal comune per ripulire tutti gli spazi al piano terra dell'edificio giudiziario di Corsa Europa. Durante le operazioni di trasloco nell'attuale sede del giudice di pace di via Veneto invece non ci saranno interruzioni nelle attività in itinere, le udienze seppure tra difficoltà logistiche proseguiranno regolarmente, già a partire da domani infatti nello stabile di via Veneto saranno disattivati tutti i dispositivi informatici e con il trasloco degli uffici del giudice di pace il sindaco di Giarre Angelo Danna esprime compiacimento per la rivitalizzazione dell'ex tribunale di Corsa Europa che torna dopo qualche anno a vivere e assicurare soprattutto l'importante servizio per il territorio. Era un obiettivo importante che c'eravamo posti come amministrazione, tutti quanti abbiamo lavorato perché questo potesse concretizzarsi nell'arco dei sei mesi, sei mesi che decorrevano dal momento in cui nel mese di luglio abbiamo dato disdetta alla proprietà dei locali dove attualmente insiste il giudice di pace. In questi mesi si è fatto in modo che si arrivasse puntuali all'appuntamento, adesso nei prossimi giorni si provvederà alla pulizia dei locali, poi la prossima settimana a trasloco contiamo da qui a un paio di settimane di inaugurare ufficialmente questa struttura a servizio della città. Recuperare questi spazi significa anche rivitalizzare questa zona, ridargli slancio, dare anche se è possibile un motivo di speranza che si può invertire la rotta su tante cose che sembrano a volte abbandonate. Erano ormai credo due o tre anni che questi locali erano stati lasciati un po' a sé stanti. In queste scorse settimane abbiamo provveduto a pulire tutto il contesto esterno, tutto il giardino che costeggia questo edificio e in prospettiva vorremmo utilizzarlo sempre di più con dei servizi di carattere pubblico in favore della cittadinanza.